Tutti assolti al processo per il porto d'Imperia, Francesco Bellavista Caltagironi in lacrime promette di completare l'approdo imperiese se glielo permetteranno. Auditorio Alfano e Parco Marsaglia tornano al comune di Sanremo, piano di recupero entro il 2016, l'impegno del vice sindaco Faraldi in consiglio comunale. Ancora lontano l'accordo per il pastificio Agnesi, la Colussi mette in 15 lavoratori in mobilità in attesa dei contratti di solidarietà, l'azienda si impegna ad evitare i licenziamenti. Infortunio sul lavoro in piazza Bresca Sanremo, un operaio vola dal primo piano del locale Punto B incendiato nei giorni scorsi, l'uomo ricoverato in ospedale. Ponte di Ferro a Bevera dovrà essere rimossa l'arcata lesionata durante l'emergenza maltempo, sopralluogo dell'amministrazione comunale di Ventimiglia. Buonasera da Altigiri, Riviera dei Fiori. Si è concluso questa mattina a Torino con una serie di assoluzioni, processo legato alla costruzione del porto turistico d'Imperia. Assoluzione per non aver commesso il fatto per il costruttore Francesco Caltagirone, assoluzione anche per Carlo Conti, l'ex amministrazione, delegato della Porto d'Imperia Spa. E' ancora assolto l'ex direttore generale della Porto d'Imperia, Domenico Gandolfo, l'ex presidente di Acquamare, degna Merlonghi e per altre persone a vario titolo indagate. Due sole le condanne per il dirigente dell'Acquamarce, Andrea Gotti Lega, a otto mesi di reclusione e per l'ex segretario generale del comune Paolo Calzia a 300 euro di multa. L'inchiesta aveva di fatto bloccato i lavori del porto, con i percussioni anche sull'amministrazione che guidava allora la città. Francesco Caltagirone e Carlo Conti avevano anche trascorso un lungo periodo di detenzione preventiva. Il blocco del lavoro aveva anche dato avvio ad una serie di cause civili da parte degli acquirenti dei posti Barca, i particolari nel servizio. Il costruttore Francesco Bellavista, Caltagirone e Manette, il cantiere del porto bloccato, indagini che hanno portato sul banco degli accusati alcuni dirigenti e amministratori del comune d'Imperia, fiumi di inchiostro sui giornali. Questo, il diluvio giudiziario che si era riversato sul costruendo porto turistico d'Imperia, un diluvio giudiziario che oggi è arrivato a sentenza. E la sentenza del Tribunale di Torino è destinata ad avere ripercussioni ancora imprevedibili. Tutti gli imputati sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Assoluzione per non aver commesso il fatto per il costruttore Francesco Caltagirone. Assoluzione anche per Carlo Conti, ex amministratore delegato della porto d'Imperia S.P.A., per l'ex direttore generale della porto d'Imperia Domenico Gandolfo, per l'ex presidente di Acquamare Deglia Merlunghi e per le altre persone a vario titolo indagate. Solo per Andrea Gotti Lega, amministratore della società Acquamarcia, è arrivata una condanna a otto mesi, mentre Paolo Calzia, ex segretario generale del comune, dovrà pagare una multa di 300 euro. Il collegio giudicante, nella sua sentenza, ha anche respinto la richiesta del PM Giancarlo Avenati Bassi di sequestrare beni per 50 milioni di euro alla società Acquamare, che fa capo allo stesso imprenditore romano Francesco Caltagirone. Il percorso giudiziario era iniziato quattro anni fa, esattamente dopo quattro anni dalla posa della prima pietra dello scalo marittimo. Era stato il pubblico ministero Maria Antonio Di Lazzaro a dare il via alle indagini che avevano visto all'opera la Guardia di Finanza e la Polizia Postale e che avevano avviato accertamenti patrimoniali e amministrativi. Le accusi, a seconda degli imputati, variavano dalla truffa ai danni dello Stato, la più grave all'abuso d'ufficio, al falso. Il processo si era poi spostato a Torino perché nella città dell'Oglio era impossibile comporre un collegio giudicante che non avesse avuto un ruolo nell'inchiesta. Nel frattempo era uscito dall'inchiesta, in quanto estraneo ai fatti, l'ex ministro Claudio Scaiola. Ora, dopo quattro anni di indagini e processi dopo l'arresto di Francesco Caltagirone e Carlo Conti con una lunga detenzione preventiva, con i lavori del porto ormai bloccati e con pesanti ripercussioni sulla giunta che allora governava la città, arriva una sentenza di assoluzione per tutti gli imputati. Una sentenza le cui motivazioni verranno depositate tra 90 giorni e per la quale è facile prevedere un ricorso in appello da parte del Pubblico Ministero e delle parti civile. Quel che è certo è che la sentenza avrà risvolti ancora imprevedibili. Il blocco dei lavori conseguente alle indagini ha portato a contenziosi pesanti tra gli acquirenti dei posti barca, la società costruttrice e il comune, i cui sviluppi potrebbero avere ripercussioni pesantissime. E continuiamo con la cronaca. Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi in Piazza Bresca a Sanremo. Un operaio, un uomo di 50 anni italiano, è caduto dalla finestra del primo piano sopra il punto B, il locale che è stato distrutto da un incendio la settimana scorsa. Sul posto era presente anche il figlio che ha subito chiesto i soccorsi. È arrivato il personale del 118, un'autoambulanza di emergenza riviera e i carabinieri che dovranno ora fare luce sull'episodio. Duomo, trasportato d'urgenza all'ospedale d'Imperia, è ricoverato ora in prognosi riservata con politraumatismo. E nella serata di ieri i carabinieri hanno arrestato in fragranza di reato per spaccio uno studente di Valle Crosia di 18 anni. Già da diversi giorni i militari stavano tenendo d'occhio la zona nota per essere frequentata da giovani dedicate al consumo di droghe leggere e dove già in altre occasioni erano state sequestrate dose di ascice e di marijuana. La determinazione dei carabinieri guidati dal maresciallo Cargajun è stata premiata. Intorno alle 16, i militari nascosti tra le auto in sosta hanno fermato il giovane di 18 anni, studente ed incensurato. Dalla perquisizione personale è saltato fuori un involucro contenente due grammi di marijuana nascosto nelle parti intime. Il giovane è stato poi portato nella sua abitazione, qui i carabinieri hanno trovato 60 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione. Il ragazzo che non ha precedenti dovrà restare presso la propria abitazione a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del processo per direttissima. E brutta avventura per un cane meticcio chiuso da ieri sera in una Fiat 600 all'altezza di Via Gota Sanremo. Il cane è stato liberato oggi, intorno alle 15, le vigili del fuoco che hanno provveduto ad aprire la macchina. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale e la sezione veterinaria dell'Asle imperiese. A dare l'allarme è stato un residente che ha così posto fine alla sofferente attesa del ritorno del padrone. L'uomo aveva lasciato un finestrino leggermente aperto, ma è bene ricordare che per l'animale si tratta sempre di una situazione di stress sia per l'allontanamento del padrone sia per la mancanza di acqua. Normalmente la stagione poi bastano poche ore di sole come quelle di oggi per trasformare l'abitacolo in un posto di forte sofferenza per l'animale. E cambiamo argomento. I cittadini sanremesi, ma anche i turisti e gli appassionati, potranno tornare nell'auditorium Alfano di Sanremo nel 2016. Se ne è parlato proprio nell'ultimo Consiglio Comunale. Parco Alfano di Sanremo e il suo auditorium potranno essere restituiti alla cittadinanza entro la fine del 2016. La conferma è giunta dal Vice Sindaco di Sanremo, Leandro Faraldi, che in Consiglio Comunale ha risposto ad una interpellanza presentata dal Movimento 5 Stelle sanremese con la consigliera Paola Arrigoni. Faraldi ha spiegato che la struttura, nonostante sia ancora in atto un importante contenzioso, è tornata nella disponibilità del Comune, che quindi potrà procedere agli interventi di ristrutturazione. Il programma prevede prima la risistemazione del parco con le sue preziose piante e poi dell'auditorium, che in passato ha ospitato prestigiosi eventi musicali e teatrali. L'auditorium è chiuso ormai da 14 anni. L'anno scorso la precedente amministrazione era intervenuta sulla storica fontana, simbolo cittadino, adesso il nuovo lotto di lavori. Oggi siamo arrivati all'esecuzione del soprallogo da parte del CTU, nominato dal Tribunale e quindi i luoghi, così come sono, come li ha descritti, il parco e l'auditorium sono nella disponibilità del Comune. Che cosa abbiamo fatto noi? Intanto è nel triennale 2014-2016, i lavori sia del parco che dell'auditorium sono previsti con le annualità 2015-2016 e dico sono previsti con le annualità 2015-2016, con tutti i limiti che poi derivano dal patto di stabilità, che non sto qui a ricordare, però il nostro proposito è quello di eseguire questi lavori il più velocemente possibile, ma non vorrei essere frainteso, ho promesso di farlo nel 2015-2016, poi se non ci sono i margini all'interno del bilancio è un problema. Oggi come cronoprogramma dell'amministrazione c'è prima il completamento, allora c'è la progettazione, perché si tratta di nuova progettazione per rifare l'auditorium Franco Alfano. Una volta partita la progettazione, no, non c'è demolizione dell'esistente, sull'esistente si parte con una nuova progettazione, perché un aggiornamento della vecchia progettazione, c'era un progetto, sarà un progettista interno, l'ingegnere mi ha detto che ha già individuato il progettista, affinché nel 2015 con il progetto si possa andare a completamento delle opere murarie, diciamo così, del Franco Alfano, dell'auditorium. Dopo ci sarà la sistemazione dei giardini, il completamento. Nelle due annualità 2015-2016. E ci spostiamo a Ventimiglia, parliamo sempre di interventi di lavori pubblici, dovranno essere sostituiti i sostegni del ponte di ferro a Bevera, frazione di Ventimiglia. Il ponte era stato chiuso per i cedimenti di alcuni sostegni a causa del maltempo nei giorni scorsi. Dopo il superfluogo del tecnici comunale, l'amministrazione ha quindi deciso di effettuare un intervento radicale per migliorare la tenuta del ponte. La chiusura si proterrà sino alla fine dei lavori. La frazione Bevera però non rimarrà isolata, anche se la chiusura dell'arteria compocherà non pochi disagi per i residenti. E nella notte tra lunedì e martedì, presso il reparto di oncologia dell'ospedale di Sanremo, è venuto il furto di un computer del relativo monitor della postazione collegata con l'archivio digitale delle immagini di radiologia. Il materiale rubato viene utilizzato per la visione degli esami radiologici dei pazienti oncologici. Il furto, precisa il direttore del reparto di oncologia Lazzaro Repetto, sottrae materiale prezioso donato dalla sensibilità di familiari di pazienti colpiti dal tumore, che hanno apprezzato le cure ricevute, compreso le difficoltà operative nelle quali spesso i medici devono lavorare. Il materiale rubato oltretutto non è utile nell'uso non specialistico, ha sottolineato il dottore Repetto Radiologico, per il quale è stato predisposto. Il dottore quindi ha lanciato un appello affinché l'importante strumentazione venga di fatto restituita al più presto nel reparto di oncologia e ai suoi pazienti. E consigliere comunale di minoranza, ci spostiamo di nuovo a Ventimiglia, Silvia Malivindi, Roberto Nazari, Giovanni Balestra, Daniele Ventura, Carlo Maria Liachino, hanno chiesto ed ottenuto la convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria. All'esame della seduta le opere di collegamento tra Camporosso e Ventimiglia. Per il progetto, come sottolineano nelle scorse settimane, si sono riuniti anche i due sindaci delle città, Enrico Iocolano e Davide Gibelli. Per loro è una corsa contro il tempo. La Sise, che è stata convocata in seduta straordinaria dal presidente Domenico De Leo, si riunirà appunto lunedì 17 novembre alle 20.30 a Palazzo Comunale in Piazza della Libertà. E parliamo di economia, attesa per i contratti di solidarietà e volontà di non licenziare, ma anche attivazione della mobilità. Non è stato ancora raggiunto l'accordo tra i sindacati e l'azienda Colussi per il pastificio di Imperia. Non è stato raggiunto l'accordo tra sindacati e Colussi sul futuro del pastificio Agnesi nella riunione presso l'Unione Industriale di Imperia. Un nuovo incontro dopo la settimana di sciopero da parte delle maestranze. L'azienda ha chiesto di poter ricorrere alla mobilità, un provvedimento osteggiato dalle organizzazioni sindacali. L'azienda ha comunque già pagato la quota di stipendi e contributi relativi alla prima parte della richiesta di mobilità, che secondo il documento presentato oggi non riguarderebbe 30 lavoratori ma 45. Attualmente la mobilità è stata attuata per 15 dipendenti scelti secondo l'azienda tra diversi volontari, eventualità che i sindacati confermano solo per alcune unità. Di questi molti volontari si sarebbero già dichiarati disponibili, un'eventualità smentita dai sindacati che quantificano i volontari in due o tre unità. Al termine dell'incontro i rappresentanti aziendali hanno espresso l'augurio che a dicembre, in occasione dell'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, i sindacati confermino la richiesta da loro presentata sui contratti di solidarietà da gennaio 2015. Comunque l'azienda ha ribadito di non volere attuare licenziamenti. Ed ora per la pagina sportiva vediamo dove sono questa settimana Paolo Staltali e Gerso Maceri. Buonasera Marzia, buonasera a tutti gli amici che sono all'ascolto e alla visione del Tg Riviera di Fiori, Paolo. Dopo di te veniamo noi. Un po' malpresi. Eh vabbè, un po' malpresi per il tempo. Malepi stagione, l'allerta 2, ne avete parlato nel vostro telegiornale. Noi però siamo qui lo stesso, nonostante non abbiamo potuto effettuare tutti i servizi in programma, abbiamo comunque una puntata ricca, ricca di sport e come al solito parleremo di calcio giovanile a 5 e a 11, poi avremo la vela, il nuoto, poi passeremo ai motori con cosa Paolo? I motori con co-gar. Oh bene, un grande appuntamento. C'è un appuntamento che tutti gli anni produce molto bene a Sanremo. E poi la pallavolo e una clip che vogliamo regalare a tutti gli amici di Sport TV con tutto il meglio di questo mese di ottobre della nostra trasmissione. Bene Paolo, abbiamo detto tutto? Ritorniamo la linea a Marzia da Via Matteotti, siamo nella vasca di Sanremo quindi... Ci godiamo le ultime notizie, la pennellata e poi andiamo noi. E ritroveremo tra poco i nostri conduttori di Sport TV, infatti adesso c'è Achille Pennellatore con la pennellata Meteo Non Solo e poi alle 19.50 e 23.20 e domani alle 13.10 la nostra trasmissione sportiva Sport TV. Grazie di rimanere con noi, buona serata. Grazie di rimanere con noi, buona serata.